Cosa dire della Valpolicella? Una splendida terra alle porte di Verona, tra Verona e il lago, è la terra dei grandi vini, del Reciotto, dell'Amarone. Anche qui ci siamo specializzati per portare vari gruppi alla scoperta di questo splendido territorio. Creiamo per loro dei pacchetti personalizzati, individuiamo le migliori cantine, le migliori degustazioni in luoghi particolari.